Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. In questo video a scopo puramente informativo vi parlerò appunto della sclerodermia. Ti invito anche ad iscriverti al canale in modo tale che tu non perda alcun contenuto che pubblico. La sclerodermia appunto è una patologia autoimmune cronica e progressiva del tessuto connettivo che provoca un danno vascolare e una fibrosi tessutale e c'è quindi un ispessimento dell'acute su tutto il corpo sostanzialmente oppure su alcune aree comunque sia localizzate. Il danno vascolare nell'ambito appunto di questa patologia è soprattutto una vasculopatia insieme anche al fenomeno di Renault. Questo qui è il fenomeno di Renault in cui praticamente si ha un ridotto flusso di sangue a livello delle mani e anche dei piedi. La parola sclerodermia deriva dal greco che significa appunto pelle dura. Chiaramente anche le ghiandole salivari vengono colpite da questo tipo di fibrosi e questo ovviamente comporterà una ridotta secrezione della saliva. Quindi in poche parole in questa patologia c'è un accumulo di tessuto connettivo fibroso. Le cause della sclerodermia ad oggi sono ancora oscure tuttavia si ritiene che ci sia appunto una iperattività del sistema immunitario. Alcuni invece ritengono che anche eventuali infezioni virali o batteriche possano contribuire appunto all'insorgenza della sclerodermia stessa. Esistono due forme di sclerodermia. Abbiamo una forma localizzata e una forma sistemica. La forma localizzata appunto va sotto l'acronimo di Crest appunto dove C sta appunto per calcinosi ovvero deposito di calcio nella cute. R sta per il fenomeno di Reynolds che vi ho esplicato prima. E sta appunto per disfunzione esofagea con conseguente riflusso gastroesofageo. S sta per sclerodattilia e T sta appunto per teleangectasia. La forma sistemica invece coinvolge soprattutto e in misura maggiore gli organi interni. La reazione autoimmune nella patologia è diretta verso la pelle ed è caratterizzata da un'anomala cascata infiammatoria che induce i fibroblasti a produrre una quota eccessiva di collagene e tutto ciò porta ovviamente come abbiamo detto ad una fibrosi. C'è quindi un malfinzionamento del circolo periferico con pelle dura, dispessita, lucida e poco elastica. Questa reazione di attacco si può dirigere anche verso gli organi interni come il sistema respiratorio e il sistema digerente. La patologia può dare anche delle specifiche manifestazioni a livello del cavorale come una riduzione della distanza tra gli incisivi, la perdita dei denti, la malattia parodontale e anche eventuale microstomia e ridotta apertura della bocca perché ovviamente il tessuto fibroso che si forma a livello periorbitale ne limita la funzione stessa. Può esserci anche accrocianosi della lingua in virtù della vasculopatia. Da un punto di vista strettamente epidemiologico la sclerodermia è più frequente nelle femmine e il picco di incidenza è tra i 20 e i 50 anni. La diagnosi è una diagnosi clinica che poi viene confermata con degli specifici test di laboratorio dove vengono ricercati degli autoanticorpi nel siero. Eventuali esami strumentali per escludere o valutare l'eventuale presenza di coinvolgimento di organi interni possono essere utili. Chiaramente per poter trattare la patologia si utilizzano ad oggi farmaci immunosoppressori. Tuttavia questi farmaci aumentano in alcuni casi il rischio di infezioni orali da candida. Chiaramente per le problematiche vascolari vengono utilizzati i calcio antagonisti. La fisioterapia e lo stretching risultano essere di fondamentale importanza nella sclerodermia. Se questo video ti è piaciuto lascia un mi piace e iscriviti al canale. Condividi il video con altri tenti per far crescere sempre di più questa community e renderla sempre più utile per tutti. Ti ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!